Abbiamo paura che vengano erosi sempre di più i diritti dei lavoratori. Noi oggi abbiamo bisogno di lavoro, non di modifiche sul diritto del lavoro. Non è sicuramente l'articolo 18 il problema dell'Italia oggi, è la crescita il problema dell'Italia oggi, è il lavoro il problema dell'Italia oggi. Non c'è più la sicurezza di un futuro, ci stanno togliendo anche quel poco di che vivere, ci mancano i diritti, ci manca anche il diritto di lavorare. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.